Tramonta all'era Orlando Paola Menta, proclamato neopresidente dell'Anci Sicilia. Paola Menta è stato eletto per acclamazione nuovo presidente dell'Associazione dei Comuni Siciliani durante la dodicesima assemblea dell'Anci Sicilia che si è svolta a Palermo. Già vicepresidente uscente e sindaco del Comune di Cattini Bagna, Menta è stato il candidato unitario dell'assemblea che succede a Leo Luca Orlando e incaricato dal 2014. L'assemblea, composta da tutti i sindaci della Sicilia, oltre al presidente, è sempre all'unanimità eletto anche il Consiglio regionale con 55 componenti fra sindaci e altri amministratori locali. Accetto con onore e con orgoglio la carica di presidente dell'Anci Sicilia e ringrazio Leo Luca Orlando per il lavoro fin cui è svolto ai sindaci di Palermo, Messina, Trapani, Caltanissetta e Siracusa che in prima battuta hanno sostenuto la mia candidatura. Sono commosso per la fiducia che mi stanno dimostrando, una fiducia che si è basata sulla presentazione di una lista unica che non ha fatto altro che cementare il percorso unitario dell'associazione. La strada da percorrere nell'immediato futuro non sarà sicuramente agile per gli enti locali soffocati come sono dalle diseguaglianze e da una fragilità economica aggravata dalla pandemia, ma ci impegneremo ancora di più per una radicale inversione del trend negativo che ha purtroppo caratterizzato la realtà di questi ultimi anni. A conclusione del suo intervento il presentamento ha sottolineato ancora una volta la necessità di lavorare tutti insieme per valorizzare i territori e per assicurare un futuro più sereno ai siciliani.